Nel suo computer la polizia aveva trovato 18.000 immagini pedopornografiche. Per un piacentino di 43 anni si erano aperte le porte del carcere. Oggi in tribunale l'uomo è stato condannato dal collegio giudicante presieduto da Italo Ghitti a tre anni di reclusione e 5.000 euro di multa per l'accusa di detenzione di materiale pedopornografico. Il PM Michele Versini aveva chiesto una condanna a 5 anni e 36.000 euro di multa. L'indagine era scattata nei mesi scorsi quando il 43enne si era presentato in un negozio per stampare diverse foto di minori seminudi. L'uomo aveva già precedenti specifici. L'avvocato difensore Lorenza Dordoni in aula aveva spiegato che l'imputato è affetto da un disturbo della sessualità quale la pedofilia e ha confessato i fatti che gli vengono attribuiti escludendo tuttavia di avere voluto diffondere ad altri il materiale che aveva scaricato. Era esclusivamente per il suo uso personale, ha proseguito l'avvocato, anche perché l'uomo non ha le conoscenze informatiche necessarie per procedere alla diffusione dello stesso materiale. Il 43enne è stato dunque assolto dall'accusa di divulgazione delle immagini.